Un grandissimo teorico sociale, voglio dire. Ah, grande! Magno Scalabri! Carlo Marxa! Vieni un attimo qua, Carlo. No, fate vede perché... Girete, fate vede al pubblico. Sì o no? Sai che noi dovevamo essere debitori nei suoi confronti? Perché? Perché è stato lui a mettere tutti qua, me voglio, al Totem, a Vicenza, prima del concerto dell'Indo Ferretti. Garante! A gente pensava che qualcuno che si scorresa cattivo, perché tutti che si guardava... Madonna, cosa succede qua? E lui si riuscì a mettere una canzone di Massalores... Chi? Ah sì, beh, giustamente. E io lo sento qua, sentite che la gente... E io non ho ancora suona la gente, comunque. Posso domandarte una roba? Dopo ti ho fatto fare una foto da Beppi, Brunello, che si guarda? E ti facciamo i nuovi mille lire, quanto faccio? Guarda che facciamo i schemi. No, no, è mia Franchi. Mia Franchi a volta. Scritto mia Franchi. Mia Franchi, che stai tu? Grande Carlo. Adesso non capisco chi ha messo la sua canzone, la prima giornata di vita. Adesso mi spiego tutto quanto. Ma ti sento somorosa? Ma sento, Dio, scassate, cosa? Zirti del profilo, quanto spessi se io c'hai? Una barattita che aveva dei doti nascosti. Beppi, fai la foto che ho proprio in mia Franchi.